Elvira Serra, primario di medicina generale ed ex vice sindaco di Agropoli, è intervenuta su Cilento Channel in uno speciale televisivo con il direttore di rete Gianni Petrizzo. La dottoressa ha parlato di elezioni regionali, dell'emergenza Covid-19, con un appello alla sanità qualificata perché l'emergenza, ha sottolineato, richiede specifiche competenze. Ben trovati gentili telespettatori di Cilento Channel. Dopo un bel po' di tempo ospitiamo nel nostro telegiornale la dottoressa Elvira Serra. Ben trovata dottoressa. Buonasera Gianni, ben trovata anche a te. Ecco, allora ci tengo soprattutto Elvira, ci diamo del tu, i nostri telespettatori lo sanno perché ci conosciamo da un bel po' di tempo. Mi fa piacere fare l'analisi politica delle regionali, sei uscita vincitrice da questa tornata elettorale che ha visto noi elettori di nuovo tornare al voto per eleggere il presidente Vincenzo De Luca. Tu ti sei presentata con il partito Italia Viva, il partito di Renzi e hai ottenuto tantissimi consensi e soprattutto ad Agropoli sei stata la prima eletta. Allora, andiamo subito all'analisi. Come hai accolto questo tuo consenso? Allora, innanzitutto mi fa veramente piacere tornare al nostro pubblico che è quello di Cirento Channel, di cui io mi sento parte piena sia per quanto riguarda la collaborazione delle mie trasmissioni scientifiche, poi l'amicizia con te che è di vecchissima data. Posso dire che ho visto i tuoi primi passi a Teleagropoli quando imparavi il mestiere di giornalista, cosa che ti è riuscita molto bene e allora per me è un vanto poi sentirmi con te e immaginare che comunque si è realizzato qualcosa che era nel cuore tuo soprattutto, ma anche nostro e quindi davvero io sono fiera di te, di quello che hai realizzato, anche perché io sono fiera di tutto quello che nasce ad Agropoli e diventa importante e che devo fare? Questa è una forma di campanilismo forte che io ho, io amo la mia terra in maniera sviscerata, ho una passione come può avere la madre per un figlio e quindi la stessa passione l'ho messa nella campagna elettorale. Questa campagna elettorale è stata non bella di più perché ha dimostrato che pur non essendo in un partito forte, in un piccolo partito, le persone possono rispondere con il cuore ancora alla politica. Ecco e quindi ho voluto dimostrare con questa campagna che guarda Gianni mi ha stancata perché è stata molto forte, toni molto duri e poi c'è da dire che erano tutti contro di me, destra e sinistra, sembravo l'uomo o la donna da battere, tra virgolette. Però io non ho vinto nulla, non ho vinto nulla, ha vinto la gente, gran parte della gente che non vuole andare a votare perché non si riconosce in una persona, non stima quella persona, non la conosce bene, non sa se si può fidare ancora della politica. Io ho dimostrato che c'è una parte di persone che si fidano, si fidano perché sanno chi sei, conoscono la mia storia, sanno che io non li ho mai traditi, non ho mai traditi i valori dell'appartenenza soprattutto, della passione, di seguire alcune regole di vita che sono alla base. Le regole di vita per me che sono alla base sono la solidarietà. Nel mio incontro con le persone, ma come medico, ma come persona semplice, c'è la gioia di stare insieme e sono convinta che insieme si può fare tutto, si può vincere tutto, si può arrivare dovunque. Il grande messaggio che ho dato in questa campagna dove sembravo Davide contro Golia, io veramente con la mia piccola fiondina ho lanciato pietruzze a grandi apparati di partito, a partiti che avevano grandi nomi e quindi questo per dire cosa? Per dire che si può fare, ognuno può fare, nessuno parte sconfitto. Quando c'è una grande forza interiore noi cittadini siamo vincitori. E allora io ho visto che non ero da sola, che c'era tanta gente che mi scriveva, anche nei momenti in cui io mi sentivo un po' giù, perché poi tu sai che comunque ho affrontato anche tante vicende familiari e quindi certe volte ci vuole un coraggio a fare una scelta, ad uscire fuori. Però poi lo sai come sono io? Sono una piccola donna coraggiosa, una grande donna perché sono anche bella e quindi riesco a trovare una forza. Ma come facciamo tutti? Quando sembra che ci sono grandi difficoltà e che vediamo tutto scuro davanti a noi, cacciamo una forza dentro come quando difendiamo i figli. Tu lo sai perché sei papà. Quando accade qualcosa alla tua terra, come un figlio, come quando le persone che ami hai un'energia e ti viene un'energia che è tutto, è universale. E allora io insieme a tantissime donne che sono diventate mie amiche, mie sostenitrici, alle loro famiglie e i loro figli, perché tanti ragazzini mi dicono che mamma, ma lei è la presidentessa? Io non sono la presidentessa di nulla, sono una donna di una semplicità e credo anche di un'umiltà straordinaria. sono stata attaccata anche con toni forti che non meritavo, ma si sa, il populismo, la cattiveria, talvolta anche non si sfidano le persone sui programmi, sui progetti, ma si sfidano sulla cattiveria gratuita. Oggi è un tempo in cui puoi farti per caso una foto e questa foto magari può essere utilizzata in tutti i modi, magari un gesto che non era nulla, che era soltanto una richiesta di un momento, dai, dai, facciamo una foto insieme, poi si utilizza come si vuole, ma le persone conoscono la nostra storia, sanno i sacrifici che abbiamo fatto, l'atteggiamento che abbiamo avuto sempre, non quel giorno lì o quello di primo, quello di stamattina, ma quello che siamo stati in tanti anni. E questo è l'affetto, questa è la solidarietà, questo ci insegna ad essere un popolo e a far parte della famiglia di questo popolo. Ecco, se noi abbiamo perso qualcosa nei nostri paesi, nei nostri territori, è sentirci parte della stessa famiglia e io ho voluto dimostrare che il senso della famiglia, dell'appartenenza, della solidarietà vengono prima di tutto. Non mi sono sentita sola, Gianni, perché quando tu parli in questo modo e ti accorgi che tanti altri la pensano come te, allora capisci veramente che tante persone sono stanche di quelli, di quelli che usano parole violente, inutili, che fanno cose solo per se stessi, che corrompono gli altri utilizzando la cosa pubblica per figli personali. La gente lo sa, la gente capisce, la gente cerca una terza via. Ecco, io ho cercato di mostrare anche a quelli che fanno politica che devono stare attenti perché esiste una terza via. La gente aspetta fino a un po', poi si stanca e li abbandona. Quindi se avete dentro di voi una forza, un coraggio, dei valori veri, lo dovete dimostrare, dovete essere quello che dite di essere. Perché poi le bugie vengono fuori, potete usare le parole vigliacche, violente, prendersela con le donne e cercare di offenderle, però non si va allontano così, perché poi la verità esce sempre fuori e la verità non è quello che diciamo, la verità è quello che facciamo. È vero, è vera. Sì, ma soprattutto hai portato grande entusiasmo e hai trascinato tantissimi giovani, cosa un po' difficile, soprattutto in un momento come questo, insomma, Covid permettendo e soprattutto giovani che sono un po' distanti dalla politica. Questo davvero, ecco, ti ha sicuramente dato maggiore forza per portare avanti una campagna elettorale complessa. Allora, non tutti lo sanno perché magari io parlo poco di me, però io sono stata una persona che ha tenuto congresso in tutto il mondo. Io ho portato un congresso a Mosca quando ancora i confini erano chiusi, dimostrando all'università di Mosca che si poteva vivere e si poteva scoprire una vita nuova cambiando gli atteggiamenti della propria vita. E ho fatto congresso in Belgio e sono stata in America. Cioè, voglio dire, sono una persona che ha cercato di parlare agli altri portando quello che era il suo messaggio, il suo bagaglio culturale, la sua esperienza. I giovani sono così, hanno voglia di capire, di imparare, non hanno voglia di bugie. Loro soprattutto ragionano con il cuore. I giovani tu non li puoi ingannare perché loro lo sentono se tu hai qualcosa di vero dentro. E da mamma io ho fatto una campagna elettorale tendendo a riportare loro la speranza che c'è una politica utile che si può fare. Ha voglia di faccine simpatiche, ben truccate, che sembrano tante brave persone. Alla fine al cuore dei ragazzi si arriva in un solo modo, amando la vita e amando loro. E già che io ho incontrato tanto nella mia vita, forse ho avuto anche tanto, perché ho avuto grandi soddisfazioni professionali. Lasciamelo dire, guarda, nella tua trasmissione lo voglio dire. sono primario di medicina generale, ma sono stato responsabile della cardiologia della Malzoni, ma sono stato un medico di pronto soccorso, ma sono stato un rianimatore del 118, ho un master in direzione di struttura complessa. Cioè sono una che nella vita ha studiato molto. Ha studiato molto, però la cosa importante è che ho sempre amato la gente. Ho amato quello che facevo perché poteva essere utile a curare gli altri. Vedi? Non sempre, anche nella mia professione, si arriva a voler fare tanto. Master, perfezionamento, specializzazione. Perché lo fai? Perché ti potresti accontentare di una sola cosa. Lo fai perché devi avere qualcosa di più da dare alla tua gente. Io ho fatto l'ozono 30 anni fa. L'altro giorno ho rimesso una targa che avevo giù al portone. Era il 1990. Mi si pesca la targa di colore oro con la scritta in nero. Sai quanti anni sono? 30 anni. Allora era una cosa vecchia, quasi quasi la volevo buttare. Invece ho detto ai miei figli, sapete che faccio? La incornicio, questa data del 1990, in cui c'è scritto studio Serra Schettino. Uno perché Serra Schettino mi ricorda lo studio iniziale, quello di mio fratello Pasquale con mio marito Salvatore e poi lo zonoterapia che abbiamo cominciato noi 30 anni fa. Adesso tutti quanti sono zonoterapisti, uno meglio dell'altro. Noi abbiamo un'esperienza di 30 anni e ti devo dire che da me vengono pazienti da tante regioni d'Italia. Allora, questo vorrà pure dire qualcosa. Vorrà dire che ho messo 30 anni di impegno nelle cose. vuol dire che i pazienti sono tornati e l'hanno detto ai loro amici, ai parenti. Dice andate da quella dottoressa perché è brava, ha risolto il mio problema. Ma come lo risolvi il problema? Con la competenza. E la competenza non è una cosa che inventi dall'oggi al domani. La competenza è qualcosa che costruisci quando hai voglia di sapere. E quindi quando non perdi mai il gusto per la vita, per la conoscenza. Ed è questo che i nostri ragazzi devono fare. Non devono perdere il gusto della vita. Imparare sempre, conoscere, vedere il mondo con gli occhi di uno scopritore continuo, di un conoscitore continuo. Diceva il poeta del fanciullino che è in noi. Beh, io ho un'età, ce l'ho. Però non ho mai dimenticato di essere quella fanciullina che era chiusa in casa, che non poteva studiare, che invece si nutriva di libri tutti i giorni. Io ho scoperto la libertà di conoscere. E non c'è niente più bello di questo. Che belle parole Elvira, sempre molto propositiva e con quell'entusiasmo appunto che ti contraddistingue come se fossi ancora una ragazzina. Ecco, grazie. Grazie per queste parole. Senti, andiamo sull'attualità adesso. Quindi archiviamo per un attimo la tua competizione politica, magari prossimamente con gli incontri con il tuo partito Italia Viva. Sicuramente ci potrai aggiornare. Ma andiamo ad analizzare, diciamo così, adesso purtroppo questo Stato, un po' diciamo, non trovo il termine, però aiutami tu. È uno Stato abbastanza triste, sì, diciamolo, perché siamo ritornati di nuovo nel lockdown, l'impossibilità di uscire, i nostri ragazzi che almeno i miei, insomma, che continuamente sono demoralizzati, vorrebbero fare una passeggiata, uscire con gli amici. Ho una bambina, una ragazzina di 14 anni, prossima a 15 anni, quindi sai benissimo qual è lo Stato e il loro, insomma, modo di vivere, con quello di conoscere, uscire, no? All'aperto, stare con gli amici e questo è il periodo più difficile. Quindi che cosa possiamo dire a tutti i nostri telespettatori che poi ci hanno seguito in tanti e in modo costante nella prima fase del lockdown? Che cosa possiamo dire? Che cosa dobbiamo dire? Anche io domenica mi sono sentita un po' persa, il silenzio della strada, non c'era una macchina che passava, veramente sembrava di essere finiti in un tempo che non avremmo mai immaginato, in un universo che non avremmo mai immaginato. Però noi dobbiamo ricordarci che questo virus aspetta soltanto un passeggero, perché lui è un parassita, quindi aspetta che uno di noi passa per strada, raccolga il droplet di una persona che è passata magari un minuto prima, perché tu sai che il virus comunque rimane fospeso in aria per un po', e allora che cosa fa? Aspetta il suo autobus per passare da un individuo all'altro. Allora come possiamo fare? Noi dobbiamo spezzare questa catena, non gli dobbiamo dare nessun passaggio, per cui interrompiamo la catena, il contagio si blocca se noi stiamo lontani. Il virus è costretto a morire, perché quando il virus non trova il passaggio da un ospite all'altro, da un passeggero all'altro, non può vivere a un tempo di sopravvivenza, dopodiché questo tempo di sopravvivenza lo porta a morte. Certamente noi lo sappiamo, abbiamo poche armi contro soprattutto i virus, perché già il batterio, le malattie batteriche hanno gli antibiotici, tranne alcuni batteri che hanno una resistenza e che è quello che noi medici temiamo molto, l'antibiotico è resistenza. Difatti quando diciamo di utilizzare l'antibiotico quando serve è proprio perché temiamo che un bel giorno compaiono un batterio contro il quale non abbiamo un antibiotico per farlo sparire. Il virus è più subdolo perché non viene sconfitto dagli antibiotici e poi lasciamelo dire, veramente c'è un momento di mediocrità anche nell'ambito scientifico spaventosa. Perché tutti questi virologi, tutti questi esperti, chi dice che va bene una cosa, chi dice che va bene un'altra, alla fine l'unica verità è che il contagio si ferma bloccando l'incontro tra le persone. Lo so che è una cosa molto triste perché noi che siamo abituati ad abbracciarci, a baciarci, abbiamo la vicinanza, ci fa sentire il colore umano e dire che non dobbiamo avvicinarsi, soprattutto un insegnamento ai bambini tanto negativo, però l'unico modo di bloccarli è ancora questo, non è cambiato tanto. Adesso speriamo che ci sia il vaccino, ma noi non sappiamo se il vaccino darà un'immunità per lungo tempo. E poi il virus è una forma molto mutante, quindi noi potremmo fare un vaccino per una forma che poi viene modificata. Per quanto riguarda le altre terapie, sentivo proprio ieri sera su una grossa trasmissione nazionale per quanto riguardava questo farmaco che è la clorichina. La clorichina è un farmaco che noi utilizziamo per alcune forme, ad esempio la utilizziamo per altri tereumatoide, però noi non possiamo dare, bisogna essere sinceri. Io sentivo in questa trasmissione che questo medico fa delle terapie domiciliare con l'idrossiclorichina. Innanzitutto gli vorrei domandare come fa questa terapia per un farmaco che in questo momento non è disponibile, perché l'AIFA ha detto che non è utilizzabile in questo momento per il Covid-19. Pertanto sono veramente delle sciocchezze che si raccontano, anche perché le persone cominciano a dire ecco, non si utilizza un farmaco che costa poco perché magari devono vivere le multinazionali. Allora cominciamo a dire che la ricerca nel mondo e così anche in Italia è fatta dalle case farmaceutiche, ma per un motivo, perché sono anni che noi risparmiamo sulla sanità. L'Europa ci ha un imposto delle restrizioni, pertanto noi abbiamo dovuto fare debiti su debiti e ci siamo ritrovati una sanità impoverita. Questo che cosa ha comportato? Che la ricerca è stata, si è fermata perché non ci sono i fondi. Allora chi fa la ricerca? Chi ha i fondi? Le case farmaceutiche. Ma la casa farmaceutica non è che fa il farmaco solamente per guadagnarci. Certo è un'azienda, è chiaro che ci guadagna, ma indubbiamente su questo guadagno salva milioni e milioni di persone. Quindi è un doubt death, è chiaro. Se io do l'aspirine e non viene l'infarto, è chiaro che ho salvato miliardi di persone al mondo che non gli è venuto l'infarto. Allora io non mi accanisco contro la casa farmaceutica, anzi dico grazie che voi state mettendo dei fondi per trovare questa cosa che può curare tutti. Ma un farmaco deve avere una valenza per tutti. Che cosa vuol dire? Che se io do un farmaco e lo do a milioni e milioni di persone, devo essere certa che queste persone non saranno danneggiate. Ebbene, l'idrossiclorichina non è un farmaco che ha provato in maniera sperimentale di non danneggiare le persone. Perché noi quando è che possiamo dare un farmaco su larga scala? Quando abbiamo dimostrato che non fa male, che ottiene risultati e non fa male. Allora questo farmaco, al momento l'AIFA, che è la società italiana di studio del farmaco, non ha avuto né le dimostrazioni che sia così efficace sul Covid-19, né tanto meno che non dia rischi. Perché è tossico ad esempio sul cuore, è tossico ad esempio sul segato. Pertanto si va bene negli altri reumatoidi e nel lupus eritematoso, però lì sono pazienti limitati che accettano la complicanza che possono avere su altri organi. Ma farli invece come terapie su larga scala, essendo stata riconosciuta la capacità di far stare bene i pazienti, ma voi veramente pensate che se noi avessimo un farmaco che costa poco e guarisce i pazienti, terremmo le terapie intensive piene come sono? Io so bene come stanno le cose, perché mia figlia che precedentemente, tu sai che è fisiatra ed era a Milano, lei è stata ricercatrice dell'Humanitas e sta portando avanti un grande lavoro di ricerca, oggi è a Salerno, a Ruggi e mi racconta che muoiono continuamente persone, quindi praticamente c'è un tasso di mortalità elevato, elevato anche per i giovani. Quindi il Covid è una malattia da prendere sul serio. Certamente bisognerebbe ospedalizzare solo quelli che hanno bisogno di essere ospedalizzati, gli altri con una rete territoriale adatta dovrebbero essere trattati a domicilio. Però lasciami dire questa cosa perché deve parlare del territorio di sanità che è competente del territorio e che è competente anche di sanità, perché molto spesso parla di sanità chi ha fatto solo il generale, ma sono magari anni e anni che non cura un paziente, che nel territorio non sa nulla. Questa è la verità. Abbiamo bisogno di operai più che di generali, operai. Allora, sempre per il risparmio che c'è stato in sanità, noi abbiamo cercato, quantomeno lo Stato centrale e la Regione, ha soprattutto dato, ha ridotto i servizi sul territorio e soprattutto l'attività alla persona, perché c'è stato un carico burocratico notevole, mirato soltanto al risparmio. È stato chiaro, non sono stato abbastanza chiaro. È chiaro che questo ha ridotto le possibilità del medico di medicina generale, di coprire il territorio, di fare più visite ai pazienti, ma dovrebbe avere un carico burocratico minore. È stata chiara, quindi. O l'uno o l'altro. Quindi o si fa fare meno i ragionieri, quindi più le visite ai pazienti, perché noi ci siamo trovati, ma guarda un po', giusto perché stiamo parlando tra amici, no? Ma ti pare possibile che noi siamo entrati in una pandemia di questo tipo senza avere delle scorte che era obbligatorio avere? C'è i medici, il medico generale, che ne sono morti tanti, sono stati mandati alla guerra senza le armi. Ma tu pensi che fosse una cosa normale non avere i mezzi? Che uno Stato nazionale non avesse le scorte? Ma noi dovremmo averle sempre, i guanti, le mascherine, dovrebbe essere una scorta continua in sanità. Invece non c'erano, perché per un momento politico è sembrato che noi dovessimo per forza risparmiare su tutto. Ecco, l'insegnamento che viene fuori è che basta risparmiare in sanità. Di questo è stata colpevole anche l'Europa, consentimi. Ma non l'Europa in quanto tale, questa mentalità capitalistica sfrenata, per cui il danà, il risparmio, l'economia viene prima dalla vita. Allora la natura ci ha insegnato una bella cosa, ci ha dato una bella abbastonata. Guardate che tutti i soldi del mondo rispetto alla salute non vi possono servire. E quindi questo è un insegnamento di cui dobbiamo fare tesoro. Io non lo so se sono stata di pale in frasca, però spero che alcune mie osservazioni personali siano utili, perché noi dobbiamo pure parlarci, dirci dei pareri, raccontarci delle cose che ci facciano capire meglio tra di noi chi siamo, come la pensiamo e anche dove abbiamo sbagliato. Come comunità, non lo dico come singola persona. Assolutamente sì. Il discorso adesso è capire come possiamo andare avanti a livello economico, Elvira. Tu che cosa pensi in merito a questo? Insomma, lo Stato sicuramente dovrà supportare un po' tutte quelle attività che da qui a poco soffriranno, hanno già sofferto prima dell'estate, si sono leggermente ripresi, per così dire, in estate, ma adesso ci risiamo di nuovo nel baratro e questo secondo me è qualcosa che preoccuperà nel prossimo futuro più del Covid. Io sono molto spaventata dalla situazione che può venirsi a creare e sono irritata, molto, molto irritata, per aver utilizzato la parola ristoro. La parola ristoro mi sembra francamente una presa in giro, perché ristoro vuol dire quando tu ti pigli un caffè perché hai mangiato, ecco, ti do un piccolo ristoro, ti pigli il caffè perché hai mangiato. Qui c'è il problema veramente di mettere il piatto a tavola, altro che ristoro, qua ci vogliono le indennità, questo è il problema, ci vogliono, ci vuole la sopravvivenza delle famiglie e questa è una cosa che si può fare, che si deve fare cambiando totalmente tattica, perché io ho molta paura di questo momento di fragilità economica, perché quando c'è un momento di fragilità economica e a questo si mette anche una fragilità politica, si creano delle pentole che bollono, delle pentole che bollono e dobbiamo fare grande attenzione perché si comincia a sentire la difficoltà in mezzo alla strada. Guarda, anche noi, io ho uno studio medico, a un centro specialistico, ti posso dire che anche noi sentiamo la riduzione del lavoro, perché è chiaro che gira tutto meno, e quindi i servizi e quindi tutto quello che c'è attorno. A questo punto mi pare che la parola ristoro veramente sia ridicola, se non irritante, scusami, ma io ogni volta che la sento mi arrabbio. Assolutamente sì. Bene, se vuoi aggiungere qualcosina prima di salutare i nostri telespettatori, magari qualche notizia sulla tua prossima attività, sulle tue prossime iniziative. Allora, le mie prossime iniziative, certamente non smetto di occuparmi delle tante persone che hanno creduto in me. Ancora le ringrazio, sono felicissima di tutto l'affetto che ho avuto ad Agropoli tantissimo, anche fuori Agropoli, io non immaginavo di essere così conosciute, quindi veramente sono grata, ma non vuol dire che questa gratitudine metta fine alle mie azioni politiche. Continuerò in questo progetto, spero che le competenze che io ho personalmente possono essere utili a fare del mio meglio, a fare del mio meglio in regione, in provincia. So che il partito mi ha già indicata come componente del gruppo provinciale e questo io li ringrazio per aver pensato a questo, per quanto io ho ricevuto anche delle grosse soddisfazioni a livello nazionale, quindi sicuramente sarò parte piena dell'attività politica di questa regione, del mio territorio. Certamente potevamo magari fare un passo maggiore, riunirci di più, però io credo che un segnale l'abbiamo dato, un forte segnale l'abbiamo dato e non porremo fine alla nostra attività politica che sarà sempre canalizzata verso l'interesse di questa terra che io amo da morire. Bel messaggio. Grazie Elvira, grazie per essere stata con noi. Cercheremo di aggiornarci prossimamente pure perché non solo facciamo informazione ma cerchiamo anche di portare un pizzico di compagnia ma anche di speranza ai tanti telespettatori che sono affezionati non solo a Cilento Channel ma anche a Elvira Sella. Sì, solo se ne sono sicura ma la mia parola di speranza è questa. Nella vita nessuno ci può vincere mai. Pensate un po' se ci può vincere un virus che è così piccolo che noi lo schiacciamo quando vogliamo. Ci vuole un po' di pazienza. In fondo avremo l'occasione di leggere un libro, di imparare un piatto nuovo di cucina, di giocare a 3-7 con i nostri figli e di riscoprire delle cose magari quelle piccole pulizie di casa che non avevi fatto perché non avevi mai tempo e rinasceremo in ogni momento e quando vogliamo perché la forza che c'è in ognuno di noi è un potere straordinario. Quindi avanti tutta, a breve il virus sarà solo ricordo. Vi abbraccio forte. Io sono sempre Elvira, la vostra amica, gratissima Cilento Channel mi annovera tra i suoi amici e anche io per voi. Io ci sono. Vi voglio bene e ne usciremo insieme. Grazie, un abbraccio forte. Bene, grazie Elvira, grazie a tutti voi. Arrivederci al prossimo appuntamento nel Tg di Cilento Channel. Grazie a tutti.